Pace e bene Pace, ascolto, annuncio, accoglienza, coerenza, armonia La parola di Dio è tutto ciò La parola di Dio è pienezza di vita È coerenza di vita È seguire Cristo nella sua profondità Nella sua essenza di verità Nella sua stessa persona Oggi Gesù ci accompagna in un altro percorso di approfondimento Perché spesso le norme riguardanti la legge, il Vangelo Le norme morali Bloccano quello che è il cammino di libertà Nel valore della verità Per cui ci si ferma nelle forme e si lascia da parte quello che è il cuore della legge Il cuore della morale, il cuore del Vangelo Il cuore e il senso della verità Matteo al capitolo 5, versetto 17-19 Ci presenta Gesù in dialogo con i suoi discepoli E Gesù dice Non pensate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti Non sono venuto per abolire Ma per dare compimento In verità vi dico Finché non siano passati il cielo e la terra Non passerà dalla legge neppure un iota o un segno Senza che tutto sia compiuto Gesù Che libertà Che verità Con il suo modo di fare, di pensare Sembra quasi che stia capovolgendo Un po' quello che è la tradizione Della legge giudaica Quella che è la legge Che è la Torah Quella che è la sostanza Un po' dell'Antico Testamento Di tutto quello che è È stato davvero una vita di fede Di coloro che hanno accolto La legge di Mosè E che era un po' la rivelazione È la rivelazione della volontà di Dio stesso Ma Gesù dice Io sono venuto a perfezionare Non ad abolire Quindi il suo modo di fare Era un modo per scendere nel cuore Del perché si agisce in tal modo Del perché Dio ha dato delle indicazioni Dei consigli, dei suggerimenti di vita Ai suoi figli Ogni padre vuole dare dei buoni consigli ai figli Ogni padre desidera cose buone per i propri figli Ogni padre quando vede il figlio crescere Vuole dare delle norme Per evitare che il figlio sbagli Che il figlio cada in qualche trappola Che il figlio faccia qualcosa di male Che poi fa male al figlio stesso E allora gli dà dei consigli Gli dà dei suggerimenti Che cosa succede? Che a volte da bravi figli Perché noi eseguiamo i suggerimenti Ma senza il cuore dei suggerimenti Senza il perché di quei suggerimenti Senza il senso dei suggerimenti E allora Gesù usa questa espressione molto forte Io non sono venuto ad abolire Ma a perfezionare A dare compimento Purtroppo i rabbini elencano Tutti i progetti Tutti i precetti di legge Tutte le norme di legge Tutte le parole della legge Volendole eseguire punto per punto Virgola per virgola Per essere fedeli Infatti le leggi Le volevano osservare scrupolosamente Addirittura avevano sminuzzato I comandamenti di Dio I dieci comandamenti In 613 norme cavillose Da osservare quotidianamente Che poi corrispondevano un po' Alle parti del corpo Che sta a significare Che tutto il corpo della persona È in sintonia Ed è fedele a Dio Concetto molto bello Suggerimento molto profondo Ma l'osservanza pura Astratta Rigida Impedisce a volte di mettere il cuore E la legge diventa Più importante della persona E la legge prende il sopravvendo Perché ha perso il cuore Quello che è l'amore di Dio In quella norma In quella indicazione E allora Gesù dice Io sono venuto per dare a compimento Perché io sono venuto A portare il regno dei cieli Portare compimento E chiunque compirà Tutto ciò Sarà grande nel regno dei cieli Quindi la realizzazione Tutto quello che può apparire Anarchi da parte di Gesù O un bestemmiatore O un disfattista O un trasgressore Effettivamente è semplicemente Un chiamare l'attenzione di Gesù Al cuore stesso di Dio Al cuore stesso della norma E quindi cosa fa? Non abolisce la legge Né la supera Ma la riporta alla sua origine Al cuore stesso dell'origine Quindi qual è il cuore? È l'origine di una norma? È realizzare l'amore in pienezza L'amore di Dio Realizzarlo in mezzo ai fratelli In mezzo alle sorelle Ancora la docilità E l'umiltà sincera Di non osservare minuziosamente Da ipocrita Ma di osservare con l'amore Che è l'origine di ogni norma L'amore che Dio ha Per la sua creatura Che poi diventa amore Che si diffonde Anche con le sue creature E la pienezza della legge Non consiste allora Nell'osservare frequentemente La norma Ma nel riportarla Alla sua piena origine Come fa Gesù Figlio di Dio E la vita allora Come quella di Gesù Diventa un percorso Diventa un divenire In cui si attua Quel processo di pienezza In cui non siamo Degli spettatori Ma siamo dei protagonisti Siamo degli attori Ecco allora il senso Del costruire il regno di Dio Essere protagonisti Insieme con Dio Essere collaboratori Insieme con Dio Essere apostoli Insieme con Cristo Perché il regno Dei scegli Si costruisca E questo deve Essere fatto Nel cuore di Cristo stesso E con il cuore Di Cristo stesso E nel cuore Di Cristo stesso Che è colui Che ha realizzato In pienezza La volontà del Padre E conosce pienamente Il cuore di Dio Ecco allora Che le norme del Vangelo Le norme della legge Sono semplicemente Un suggerimento Per aiutarci Ad essere protagonisti Attori Della realizzazione Del regno di Dio Attori Non solo Passivi Papa Francesco Parlando della Chiesa Ci ha detto che la Chiesa Non è una babysitter Ma è una madre Che aiuta a crescere I suoi figli A farli diventare Adulti nella fede Collaboratori Ecco è importante Crescere nella fede Diventare adulti Proprio alla stessa altezza Vertiginosa certamente Perché arrivare All'altezza di Cristo È davvero Un salire in alto Uno scendere Nelle profondità Che a volte ci spaventa Ma è proprio questo Raggiungere la pienezza Di Cristo stesso Per essere come Cristo Un protagonista Del regno dei Cieli Essere adulti Nella fede Significa Prendersi la responsabilità Di annunciare il Vangelo Di vivere il Vangelo Di portare Il cuore di Dio L'amore di Dio La misericordia di Dio La tenerezza di Dio Nelle relazioni Tra le persone Proprio come ha fatto Cristo E insegnare a fare Altrettanto Difatti Gesù dice Chi trasgredirà Uno solo Di questi precetti Anche minimi E insegnerà Gli uomini A fare altrettanto Sarà considerato Minimo Nel regno dei Cieli Inversamente Chi invece Li insegnerà Sarà considerato Grande Nel regno dei Cieli Ecco allora Questa collaborazione Questa partecipazione Quest'essere Adulti Nella fede Che porta ad essere Attivi Ad essere partecipativi E ad essere Con Cristo Gesù Evangelizzatori In questa nostra storia In questo nostro tempo In questo nostro mondo Pace E ogni bene E ogni bene Mi 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 Mi